Non farmi pensare. Chi di noi non ha mai espresso questo desiderio navigando sul web? Imbattersi in siti utili, usabili e piacevoli è il sogno di ogni internauta, ancor più se ciò che si sta cercando è un servizio o un'informazione da una pubblica amministrazione. Di usabilità e di facilità d'uso dei siti della pubblica amministrazione si è discusso stamattina a Forum PA, durante il convegno, ma è più not found, l'usabilità a basso costo. Promosso dal gruppo di lavoro per l'usabilità, è stato il momento di sintesi del lavoro che negli ultimi mesi ha visto protagonisti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche chiamate a testare i propri siti web, sottoponendoli al giudizio degli utenti. A introdurre i lavori, Emilio Simonetti, coordinatore del gruppo e direttore del servizio progettazione e gestione sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Numeroso il parterre, al centro del convegno, la multicanalità dei servizi e la qualità del lessico da usare sul web. Tra i relatori, Maurizio Boscarol, docente di informatica all'Università di Trieste, Simone Borsci, ricercatore ed esperto di Human-Computer Interaction all'Università di Perugia, Lucio Lamberti, del Politecnico di Milano, e Nicola Mastidoro, direttore ricerca eologos S.p.A. A conclusione, dopo la presentazione di Alessandra Cornero, responsabile dell'area comunicazione e servizi al cittadino di Formez-Pia, sono state riportate le cosiddette esperienze di qualità. I direttori e i coordinatori dei siti del Ministero dell'Interno, dell'Inps e dello sviluppo economico e dell'Intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno condiviso le proprie esperienze di applicazione del protocollo IGLU. Tutti i redattori del web presenti sono stati invitati a firmare il manifesto dell'usabilità presentato da Simonetti.